Grazie a tutti L'alza per l'altra schiacciata di Jefferson 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 È un buono da apprezzare questo spingolo, il gesto tecnico. Gersonodo, palleggio, il resto, tiro da tre, non va. E scaccia Zafin! Eddeworpis, giusto? Giusto, sì. Mamma mia! La recupera poi Stefano, lancia il contropiede per Gersonodo, che alza per Dequan Jones. Sei per lui, schiacciata. C'è Gaukenas, non riceve, riesce Polonara, consegna, attenzione, Gaukenas è libero per Castone, scivolato da tre, Gaukenas! La bomba di Ribattas Gaukenas!